1 vai postarci ai bordi della strada 1 scusate vai si dovetteno difendersi dalle impulsioni dei blocchi e dei rombocati dalla rifa della guardia lanciando giù l'entrata di campagna pietre e fascini di legno riuscirono sempre ad impedire l'entrata dei barbari nel paese e amore i risultati del secondo gioco sacca rossa 2 minuti, 28 secondi e 48 decimi più 25 secondi di abbono per un totale di 2 minuti e 3 secondi casacca blu 3 minuti e 47 secondi meno 25 secondi di abbono 4 minuti e 12 secondi vince ancora la casacca rossa un applauso un applauso un applauso un applauso 4 minuti e 12 secondi un applauso l'acciones Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.